Buonasera a tutti e benvenuti a Latte di Bufala, sono qui con Sandro Canori e Andrea Di Castro, stiamo per cominciare, 3, 2, 1... Ma se vuoi sapere che stai a fa'? Eh no! Eh no, lo dico io! Basta! Ma che stavo a fa'? Dai, ci penso io, ci penso io! No, non va bene ancora. Ok, ora ci siamo, però non siamo ancora pronti, è chiaro, quindi diciamo che ci vediamo fra qualche giorno, nel frattempo, dagli è tutta! Te mi stasso un coglione! Ma ce l'hai un po' di zucchero?